Il vino in degustazione che ha ottenuto le quattro rose Camune è un Valtellina Superiore Sassella di OCG, 100% nebbiolo. Il vino si presenta limpido, di un color rosso granato, consistente, al naso è fine, elegante, con una buona intensità, si percepisce soprattutto il fiore appassito, note di speziatura, una spezia dolce come la cannella, la vaniglia. E un finale di tostatura. In bocca è secco, morbido, caldo, ben equilibrato da una freschezza e da un tannino elegante che lo rendono un vino armonico, da abbinare, da provare con il classico pizzocchero alla valtellinese e da degustare in calici di questa tipologia a una temperatura di 18 gradi.